Bentornati amici nel palestrone ravennate dal tabellone impazzito, Pistoia lotta e vince trovando la sua prima gioia esterna e del 2021. Cominciamo elogiando. Carl Weedl, 6 e mezzo. Appiccicoso come sempre in difesa, si nasconde un po' in attacco, tornando alla ribalta nell'allungo finale. Very well. Gianluca della Rosa, 5 e mezzo. Finale di partita gagliardo, ma inizio pessimo. Serve più continuità, corrente alternata. Jonas Risma, 5. Paga le nuove rotazioni. Tanta grinta, ma non trova il tempo di farsi notare. Stand by. Mitchell Poletti, 7. Torna a punire da fuori e si rivela fondamentale ad inizio, ma soprattutto decisivo a fine partita. Bentornato Mitchell. Lorenzo Querci, 5. Meglio in difesa che in attacco, ma è ancora lontano dal suo status di enfant prodige. Moscio. Threshawn Fletcher, 6 e mezzo. L'esordiente bianco-rosso viene talvolta fregato dalla voglia di strafare, ma la sua voglia di piglio da condottiero fanno ben sperare. Welcome Threshawn. Threshawn Sims, 7. Il lungo americano sembra tornato ai vecchi fasti. Per lunghi tratti, a piglio dei bianco-rossi, ritrova grinta e mano calda. Riferimento. Lorenzo Saccaggi, 7 e mezzo. Top scorer di Pistoia, 20 punti. Sempre meno play e sempre più guardia. Ha il grande merito di reagire al blackout del secondo quarto guidando i suoi nel punto a punto finale. MVP. Le prime pagelle dell'anno finiscono qui. Continuate ad applicarvi se volete meritarvi la lode. A presto e buon basket!